musica 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 ok aspetta fermo, 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 fermo guardami, guardami ah ottimo curati andiamo andiamo continuano a farmi ricaricare ah no ok più o meno mi fa ricaricare chi è questo? asso mi ha preso in testa ma come che hanno sparato solo voi a me neanche mi hanno toccato? non te lo so dire pi 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 riii riluati ok non si può prendere, no tra un po' ci insultano perchè siamo in ritardo guardate che sto salvando balletto ci insultano perchè siamo in ritardo tra poco bravo dove cazzo siete muovete il culo villaggio c'è un elicottero dai 160 metri è troppo lontano eh ho finito lo sprint ho di nuovo lo sprint lo sprint di questo gioco non ha sensi nulla ha sensi dobbiamo liberare ma vaffaculo mi hai sparato? no mi hanno sparato 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 e tu siete tutti a terra ragazzi eh si c'è uno stronzo con una mitragliatrice robbi la mia schiena anche se mi hanno sparato in testa mi fa mal la schiena riesci a strisciare verso di me? non posso muovermi no non riesco a curarti vabbè allora mi distengo più velocemente no aspetta no no vabbè mi sono lì da qua vabbè fanculo il fatto è che sono da solo finchè non finisco stazione ok no ciao salve riusciamo a salvare Balletto ti do fuoco di copertura Vai, salvalo Veloce Salvalo Ma cosa cazzo ho fatto? Hai chiedato una granata? È morto Tu sai che qui è pieno di mitraglie da ricevere? E che quello era un vaso? Ok, non mi dava la mia arma Ok, Harry Ci sei? Hai intenzione di stare su quel muro o vuoi venire qua? Ok, non venire qua Vieni qua Riescere a giugiarlo Nemico, nemico di fronte a me Defico cosa? Nemico di fronte a me Mi stavo curando Aspetta che mi sto curando Dove dobbiamo andare? Vaffanculo Sei morto Potresti salvarmi forse Sei vivo? Ah no, ti sei impaltato Ti sei impaltato contro il muro Sei vivo? Non posso sparare in testa Sei vivo? C'era un nemico qua Non è vero, non c'è nessuno Ehi, c'è anche Soso Sotto Siamo rispawnati tutti quando ha fatto il salvataggio Ma meno male Sì, perché una zona l'abbiamo liberata Abbiamo liberata l'altra Mica Facciamo cagare come squadra d'azione Sei tu che fai cagare Io ho fatto fuori un sacco di gente Ma se sei morto Mitragliato male Ma solo perché c'era troppa gente Per la serie non mi interessa Io vado in mezzo È tuo, è tuo quello Chi? Quel palazzo è tuo Ah, grazie Ma asciugamo giugure a te Cosa? Devo ricaricare le munizioni Sì, dove sono le munizioni? Non ci sono Sì, vado Humvee No Ah Ti ho fregato Andrò io per primo dentro l'ambi Ma è diverso Non mi piace Mi hai ucciso All right, that's all right Io almeno ti ho sparato solo a un piede Ma io ti ho sparato nel culo Reloade Ma puoi spararmi mentre sono sul b Come lo so A quanto pare, sì Quindi adesso Salve Niente Aspettiamo che entra anche l'altra Dove sei andato? Oh Sei risuscitato Ehi, salve Fai salire l'altro Stavo chiedendo support aereo Su la nostra posizione Ci sparano È ripartita la musica Sì, vabbè, speriamo che guidino decentemente Ehi, guarda il cielo Stavolta sembra normale Quasi No, dai, forse è normale Holy shit, that was fucking hot God damn Can we kick ass And take names or what, Charlie? Arrg 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 Gli ha risvolto Arrg Sì Arrg 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 Eeeh, ce l'abbiamo fatta Classifica oro? Sai che possiamo potenziarci? Sì Ci sono dei No, non solo le munizioni Ci sono tipo dei Dei Delle skill da potenziare Sì, lo so Ho visto Io l'ho scoperto per caso Progressi giocatore qua Cacchio quanta roba che ci abbiamo Skill da potenziare in progressi giocatori Non lo sapevo M16A4 Io che fucile c'ho? Hai ragione Ah Boh È molto calda e No, non lo sapevo No, non lo sapevo Dora, non lo sapevo No, non lo sapevo Non lo sapevo Vabbè ho capito, sarà un'altra di quelle missioni sull'armi. Ma noi siamo un marino. Sì. In Tajikistan. Ok. Distanza percorso a totale è 13.198 metri. Conta anche quando laggavo o... Perché lì potrei aver fatto 50 chilometri. Precisione fucile 0%. In chi ho 0% fucile? Boh mi sa che non conta. Cosa siamo? Sei di fronte a me? Sto portando davanti la testa. Dobbiamo saltare? No, non dobbiamo saltare. Eh, sono scomparsi tutti! Sì. Robby. Perché mi sto... Spostando di lato, aiuto. Run, 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 run. Run, you fool! Sono arrivato prima di tutti. Fammi salire! Voglio salire a livello 8. Mi danno un nuovo... Mirino. Questo qui fa cagare. Beh, noi dobbiamo sfondare centralmente come dei fottugiarietti a quanto pare. Ma scusa, ma tutti sti camion vuoti... Stanno aspettando che noi liberiamo il villaggio per passare e per non esplodere. Taji potrebbe solo essere riposizionato, quindi stai fermato. Come possiamo essere amici? Rifleman, 75 metri oltre. Hai visto cosa serve avere la supervisione da lontano? Te li taggo anche se sto guardando da un'altra parte. No. Tagga, tagga tutto. Gente sul tetto! Tetto, tetto, tuoi, 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 tuoi. Il rpg ha stato eliminato. Ho eliminato quello con il rpg. Fatto. Il mercato dei container. Il mercato dei container. Cioè, vendono i container. Può che fare. Ma che cazzo. Credo che ci sono altri due nemici, eh. C'è un altro. C'è un altro. Ah! Why can't we be friends? Why can't we be friends? Rifleman, 50 metri east. Target pacified. Why can't we be friends? Target pacified. Target pacified. Salve. Robby. Munizioni. Sniper, 50 metri east. C'è un nemico. Un enemy contact east, in the ground. Mamma mia. Quel tipo è morto con due ore di ritardo. Mi sa che abbiamo un tizio sopra il palazzo dove sono io. Sopra? No. Almeno io non lo vedo. Ah, sì, è lì. Non c'è più. Ha una silhouette. Ha una silhouette vuol dire che c'è un versaglio. Ha una silhouette. Vabbè, io sparo, ho una gamba, muoiono. Fosse stato arma, sarei già morto da tipo due anni. C'è un tipo girato di spalle là in fondo. Di qua ci sono le cose per l'acqua. Sì, ma mi stanno sparando intanto che tu pensi alle cose per l'acqua. Guarda che io sto facendo casini qua, non è che sto facendo... Non sto cazzocchiando. Rifleman, 50 metri, east. Target pacifed. Enemy contact, southeast. Rifleman, 25 metri, southeast. Dead!